Oggi i lavoratori di Busitalia sono in sciopero perché vogliono con il loro sciopero far capire al sindaco e all'azienda che non si può andare avanti in questo modo con il servizio pubblico. Pretendono che il servizio pubblico che viene fornito alla città sia un servizio pubblico più efficiente, in grado di garantire i bisogni, cosa che invece da quando è arrivata Busitalia non sta assolutamente accadendo. Per questo vogliono con questo sciopero far capire che o si cambia registro per quanto riguarda il servizio pubblico e quindi ovviamente anche per quanto riguarda la loro vita lavorativa oppure Padova non avrà più un servizio che si possa definire tale. C'è anche un'altra cosa da dire per quanto riguarda questo sciopero di oggi. Come sempre il sindaco Bitonci non ha saputo e non ha voluto confrontarsi con i lavoratori. Ha preferito piuttosto minacciare attraverso le pagine dei giornali e lanciare accuse personalizzate nei confronti di alcuni di noi dicendo che noi vogliamo solo screditare l'amministrazione. Ovviamente questo non è vero, ovviamente questo è il segnale che è un sindaco che non ha gli argomenti per rispondere a delle accuse precise come queste che dicono che il servizio pubblico a Padova sta affondando.